e nel giorno in cui la chiesa contempla tutti i santi senza volto e senza nome noi ritroviamo padre ernesto della corte il nostro carissimo amico biblista che torna a trovarci in conversazioni biblica oggi dobbiamo dire tanti auguri perché in questi santi abbiamo la speranza che il signore possa santificare anche noi richiamandoci come dice papa francesco che il fatto che ognuno di noi è in cammina verso la santità perché la santità non è una tappa al di sopra di noi una meta inverosimile è l'umanizzazione che ognuno di noi riceve nell'incontro col signore esatto e ci offre una meditazione sulla pagina delle beatitudini io ho davanti a me non si vede ma ho la rivista di voce di padre pio dove tu commenti in anticipo tutti i vangeli della domenica tutti i brani e quindi mi sono ecco mi sono affidata alle tue parole già in anticipo padre ernesto sì la verità che io sono un dipendente di padre pio perché scrivo sulla sua rivista facciamo conversazioni bibliche sulla sua televisione è vero chiamiamolo sempre questo nostro grande santo a cui io sono particolarmente legato perché mia madre pregava padre pio chiedendo la mia conversione a quanto pare una parte l'ha già ottenuta il resto dovrà ancora venire sì sulla rivista ecco lo dico anche alle nostre amiche e nostri amici su voce di padre pio si trovano i commenti brevi di quello che poi è anche la nostra rivista è bello il testo di oggi anna maria perché un testo che noi leggiamo spesso è nella quarta domenica la troveremo nella quarta domenica del tempo ordinario del ciclo prossimo che è quello a la troviamo anche il giorno dei morti è uno dei vangeli che possiamo leggere lo troviamo soprattutto oggi nel giorno in cui contempliamo tutti i santi appartiene a quel grande discorso della montagna che va dal capitolo 5 al capitolo 7 come definirle le beatitudini che dico subito non sostituiscono i comandamenti in realtà però sono come la chiave di violino su uno spartito sono una griglia di lettura perché gesù mette queste beatitudine all'inizio del discorso della montagna e come ci ricorda matteo alla fine del capitolo 4 le folle vengono da tutti i tre punti cardinali vengono dall'est vengono dal nord vengono dal sud matteo solo l'ovest non lo cita perché c'è il mar mediterraneo è un discorso estremamente redazionale che comincia con lo sguardo di gesù gesù guardando vedendo sale si mette a sedere e dice il testo caia noixenton stomautu aperta la sua bocca questa bellissima espressione che indica l'insegnamento solenne gesù sale su questa montagna non per allontanarsi dalla gente anzi intorno a lui ci sono i discepoli e poi c'è la gente questa sorta di salita ricorda la vicinanza sempre al padre mosè pure è salito sulla montagna per ricevere le tavole della legge qui invece gesù che ci rivela il pensiero di dio iniziando da una parola che è molto bella in greco ma carios l'abbiamo commentato qualche altra volta anche nel salmo 1 dove ricorre l'espressione ebraica hashre beato è un'espressione di felicità una sorta di conseguenza noi siamo già beate e poi gesù spiega per quale motivo siamo davanti noi diciamo le otto beatitudini in realtà mi piace dire che sono sette più uno perché l'ultima è passiva beati quelli che sono perseguitati quindi subiscono l'ultima li sintetizza le prime sette e ogni beatitudine a questi tre elementi beati poi c'è una categoria di destinatari ad esempio i poveri e poi c'è una promessa di essi è il regno dei cieli dice la prima e notiamo che la prima e l'ultima hanno la stessa terza parte perché di essi è il regno dei cieli quindi all'inizio alla fine delle otto beatitudini sette più uno noi abbiamo questa certezza che dio è dalla loro parte questo significa l'espressione al centro abbiamo le altre sei con questi futuri c'è sempre un futuro di promessa io li commento brevemente perché davvero sono molto sono molto dense le beatitudini potremmo stare qui delle ore a discernere su ogni beatitudine ma vorrei dare uno sguardo di sintesi ai nostri lettori la prima poveri in spirito poveri cioè riguarda allo spirito quanto allo spirito che cosa vuole dire i poveri sono quelli che desiderano per grazia quindi perdono è un dono che viene da dio di sottomettersi alla volontà del padre sono quelli cioè che dichiarano di essere dipendenti da dio noi domenica prossima troveremo un testo molto bello quello di zaccheo veniamo dal testo che abbiamo già letto del fariseo e del pubblicano e abbiamo detto che la vera umiltà è mettersi in condizione di riconoscere conoscere e riconoscere che dipendiamo da dio questa consapevolezza abbatte l'orgoglio ed è l'atto più intelligente che noi possiamo fare la seconda beatitudine nel testo italiano noi leggiamo beati coloro che piangono ma in realtà è luca che usa il verbo piangere che definisce un atteggiamento esterno ma in realtà usa il verbo penteo da cui viene anche pentimento che parla di afflizione quindi è interessante questa seconda beatitudine insieme alla prima riprendono il testo di 6 a 61 proprio quelli che i poveri e gli afflitti chi sono gli afflitti sono quelli che vivono una relazione di intima comunione con dio e con i fratelli sono quelli che si fanno raggiungere a motivo dell'amicizia potremmo quasi dire che la condivisione è frutto dell'amore quindi i quelli che vivono l'afflizione paolo direbbe piangere con chi piange e sorridere con chi sorride sono le persone che si lasciano raggiungere nella relazionalità poi ci sono i miti i prautes i dolci quelli che hanno davanti agli occhi la meta quelli che sanno dominare le proprie emozioni quelli che nutrono un amore rispettoso verso il prossimo proprio gesù in matteo dice prendete il mio gioco sopra di voi e imparata da me che ho il cuore mite e umile quindi il più grande mite è proprio gesù gesù è mite gesù è umile la quarta ci ricorda la fame e la sete della giustizia fame e sete indica il forte desiderio della giustizia cioè del rapporto di giustificazione del rapporto di fede con il signore quindi un forte desiderio di compiere nella propria vita la volontà del signore la quinta la misericordia molto bella è l'unica che ha una parte e la terza con la stessa radice beati misericordiosi perché saranno misericordiate anche il papa traduce spesso così un modo sgrammaticato ma per far capire che a nostra volta noi riceviamo la misericordia la misericordia è uno degli attributi di dio come nella giustizia il signore arsino l'ha dichiarato lui è lento all'ira ricco in bontà in fedeltà lui è il dio delle misericordie dice il libro della sapienza quindi qui che ha misericordia davvero riceve misericordia dal signore poi c'è la sesta i puri di cuore dove questo di cuore indica tutto l'uomo il cuore biblico sono quelli che compiono azioni coerenti con le proprie intenzioni la potremmo chiamare integrità morale questa bellissima beatitudine che non è come dire riguardante una sfera sessuale ma vuole riguardare quell'interiorità che deve essere purificata dal vangelo poi ci sono quelli che fanno la pace i poiuntes quelli che operano la pace qui c'è il verbo poieo poiuntes quelli che la fanno la pace perché la pace bisogna farla realizzarla promuoverla viverla impegnandosi e come si fa creando rapporti di concordia chiude l'ottava che è l'unica al passivo o dicevo prima i perseguitati che è la sintesi delle prime sette beati quelli che cioè il male un po come il giusto giuseppe in genesi il male lo tengono su di sé come dice pietro la sola maletta non lo restituiscono perché il male quando si restituisce genera una catena di violenza ecco potremmo dire che il santo che è l'uomo realizzato a trattenere di sé il mare e in questo modo lo blocca in questo modo vive la croce di cristo in questo modo si umanizza fa pasqua è quello che il signore chiede a noi di vivere questo sacrificio d'amore di rispondere oggi con questa piena adesione a dio ecco perché è importante oggi recuperare che santità e pienezza di umanità è un traguardo è un cammino è una progressione non è mai soltanto un punto di partenza e concludo con riprendendo appunto le tue parole sulla rivista essere beati in definitiva il dono che lo spirito compie realizzando una piena umanizzazione di ognuno di noi con la nostra collaborazione e ad oggi ognuno di noi può chiedersi ci sentiamo più puri di cuore afflitti operatori di pace perseguitati miti magari ecco cercare di averle tutte queste caratteristiche io mi chiederei mi sento più uomo e più donna quando io sono davanti a gesù sento che la mia umanità cresce perché come ci ricorda il concilio il vero uomo è solo gesù è lui che ci comunica l'umanità ecco perché dobbiamo dire gesù ricordati di noi bellissimo questa giornata da vivere così come tu ci hai invitato a farlo così come ci invita lo stesso vangelo grazie padre ernesto e noi ci ritroviamo domenica una santità feriale semplice bella ma luminosa grazie anche a te di cuore ciao grazie a te